E' arrivata questa per te. Sapere è sempre meglio di non sapere. Mi hanno accordato le ferie. Già. Questo invece è il risultato del test. E' negativo. Non leggi la tua posta, ma apri la mia. Ero troppo curioso. Volevo sapere. Hai aperto una lettera su cui c'era scritto riservata. Sei contenta, vero? Grazie.